A inizio il fantastico viaggio di Dante Alighieri attraverso la porta suprema del tempo e dello spazio alla ricerca della sacra reliquia di San Longino che può salvare l'umanità. Una potente profezia racchiusa in una pergamena, il bene ed il male, che si contendono il primato di fine millennio sulla chiesa. Per millenni un fragile equilibrio ha regnato fra le due forze, ma ora uno degli angeli caduti, un malac, il più spietato e malvagio di tutti che per secoli aveva tramato vendetta, ha deciso di infrangerlo per insinuarsi nelle più alte sfere della cristianità. Vuole confondere i giusti e portare il caos nella casa di Dio, ma la santa milizia, congregazione fondata da Dante Alighieri per difendere i veri valori della cristianità, sempre più corrotta, dovrà impedire che tutto ciò accada. Alan, un giovane bibliotecario, esperto di libri antichi e profondo conoscitore della divina commedia, dovrà sfidare le leggi del tempo e dello spazio per riportarla nel futuro. Al prossimo episodio Al prossimo episodio